Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione locale su CatalanTV, gli esami di maturità ai tempi del Covid-19, oggi al via agli esami, mezzo milione di studenti che in Italia lo sosterranno, 13 mila circa quelli sardi, esami ai tempi del Covid che vedranno gli studenti davanti alla commissione con mascherine e distanziamento sociale e solo con prova orale, come è noto. Intanto il sindaco conosce l'assessore alla pubblica istruzione, Maria Grazia Sararis, hanno scritto una lettera aperta agli studenti algheresi. Al via da oggi gli esami di maturità, quelli strani, quelli al tempo del Covid, ma anche quelli dove la notte prima degli esami rimane sempre la stessa. In un'Italia che cerca di ritrovare la strada giusta verso la normalità alla quale eravamo abituati e che la pandemia ci ha forzatamente tolto, la scuola non è certo stata risparmiata. E così la maturità 2020 passerà alla storia, non solo per il fatto di doverla affrontare con tutte le precauzioni del caso, distanziamento, mascherine che ormai fanno parte del nostro vivere quotidiano, ma anche per come sarà sostenuta, ovvero solo con il colloquio. Da oggi l'ordine è stato deciso con un'estrazione. I circa 500.000 studenti italiani cominceranno a sostenere gli esami. Di questi, 13.000 saranno quelli sardi che si apprestano ad affrontare questo impegno, che li porterà alla conquista di uno dei primi dei traguardi importanti della vita. Davanti alla Commissione porteranno un argomento sulle materie di indirizzo, differenti da istituto a istituto, poi un testo di letteratura italiana, non mancheranno cittadinanza e costituzione e le domande che la Commissione intenderà porgere ad ogni candidato. Sono tanti anche ad Alghero i maturandi che stanno cominciando così questa avventura. Un saluto a tutti i ragazzi che quest'anno chiudono una stagione scolastica del tutto straordinaria e un arrivederci a settembre con la speranza che si possa tornare alla normalità delle elezioni in presenza. Con queste parole inizia la lettera del Sindaco Conoci e dell'Assessore alla pubblica istruzione Maria Grazia Salaris. Si è concluso un anno scolastico nel quale i bambini e i nostri ragazzi hanno dimostrato una grande immaturità. L'esperienza ci ha certamente segnato, la ricorderemo per sempre, resterà nella nostra memoria. Il periodo della chiusura ci ha allontanati dalla vicinanza fisica, ma abbiamo riscoperso quel senso di solidarietà e di comunità che i nostri bambini e i nostri giovani algheresi hanno saputo mostrare. Il nostro ringraziamento proseguono Sindaco e Assessore, Valle e famiglie che con spirito di collaborazione hanno supportato gli insegnanti nell'avventura della didattica a distanza. Gli esami di maturità ora rappresentano un primo momento di parziale ritorno alla scuola aperta. Agli studenti algheresi che si apprestano a misurarsi con la tappa fondamentale per la loro crescita vanno tutti i nostri migliori auguri. Ma intanto ci prepariamo, proseguono. Siamo a lavoro in attesa delle linee guida per riportare gli studenti a scuola con le giuste misure di sicurezza. Abbiamo fretta di archiviare la minaccia del virus come un brutto ricordo, ma appunto per questo abbiamo il dovere di mettere al centro il tema della sicurezza. Stiamo lavorando con tutti i settori dell'amministrazione a fornire tutte le migliori condizioni possibili per un ritorno tra i banchi nelle condizioni di sicurezza. Vogliamo tornare alla normalità e lasciarci alle spalle questo periodo così doloroso, chiudono il sindaco Conoce e l'assessore Salaris. Speriamo davvero in un ritorno alla normalità. Cambiamo decisamente argomento. Brutta disavventura ieri per l'ex sindaco Mario Bruno che nel tardo pomeriggio è stato aggredito nella centralissima via Cagliari da un uomo con problemi psichici già noto alle forze dell'ordine. L'uomo avrebbe avvicinato Bruno e poi gli ha stretto un braccio intorno al collo. Soltanto l'intervento di alcune persone, tra cui il reggibista Ogart Paco, ha evitato il peggio permettendo a Bruno di liberarsi dalla presa dell'aggressore. Per l'ex sindaco che è dovuto ricorrere alle cure dell'ospedale, tanto spavento alcune escoriazioni. A Bruno è arrivata la solidarietà di tante persone, tanti cittadini, anche dall'ambiente politico, dato al primo cittadino Mario Conoci. Un fatto sconcertante che ha rischiato di avere conseguenze più gravi e che ha destato forti preoccupazioni, ha detto Conoci che ha voluto sentire già ieri sera il suo predecessore. Auguro a Mario una pronta guarigione, con l'ospicio che quanto accaduto diventi presto solo un brutto ricordo. È chiaro, d'altra parte, che episodi del genere non possono essere tollerati in alcun modo e che quanto successo ieri non deve più ripetersi. Con l'occasione voglio ringraziare Paco Ogart, che con il suo providenziale e coraggioso intervento, ha evitato che l'aggressione potesse avere esiti peggiori. Sbloccato nei giorni scorsi l'iter per l'ottenimento dei pareri necessari, lavori di dragaggio dei fondali del porto canale di Fertiglia. L'aggiunta ha dato il via libera al progetto da un milione di euro, finanziato dalla Regione. Il lungo iter burocratico iniziato nel 2010, con la messa a disposizione delle risorse da parte dell'assessorato regionale di lavori pubblici, è continuato con la convenzione con il Comune di Alghero del 2015. Definito il piano di caratterizzazione, anche questa opera, su input del sindaco Mario Conoci, ha subito un'accelerata che ha portato fino alla chiusura della fase dell'ottenimento dei pareri tecnici dei diversi enti coinvolti. Il progetto preliminare prevede l'asporto di circa 28.800 metri cubi di sedimenti depositati sul fondo del porto di Fertiglia, portando l'attuale livello batimetrico di 1,8 metri, con tratti di un metro, a livello di 3 metri di altezza. L'ultimo dragaggio a Fertiglia è stato eseguito dalla Regione nel 2000 ed allora i sedimenti hanno continuato ad accumularsi, costituendo lo stato di pericolosità dei fondali e della condizione di navigabilità che oggi risulta ulteriormente compromessa. Definito anche il piano di caratterizzazione dei sedimenti marini che ha decretato, seppur in presenza di una misura bassa di tossicità, la non compatibilità per granulometria è caratteristica di passimento in aree contigue. Il ripristino dei fondali, secondo un cronoprogramma concordato con l'assessore ai lavori pubblici Antonello Peru, avverrà in due tempi. Il primo con un progetto stralcio definitivo esecutivo che andrà in gara tra pochi giorni per un importo di 150.000 euro. La restante parte della procedura e della restante quota di 850.000 euro di finanziamento ha visto l'approvazione in giunta del progetto preliminare e prevede il ritorno a 3 metri di altezza del fondo in tutto il porto canale. La fase più immediata è quindi quella della messa in sicurezza dell'imboccatura del porto, con i lavori urgenti dello stralcio progettuale per opere di mera manutenzione straordinaria dei fondali, consistenti nello spostamento delle sabbie verso l'esterno porto nell'area di deposito prospicente e il molo di sopraffluto per un totale di circa 8.000 metri cubi di sedimenti. L'opera pubblica si avvia finalmente alla fase di accantieramento dopo un lavoro che ha messo in primo piano il controllo della conformità alle norme ambientali, urbanistiche, geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche dell'opera, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza, sottolineano in una nota dal Comune. Il coma 27 dell'articolo 6 della finanziaria regionale del 12 dicembre scorso prevedeva già il contributo di 3 milioni per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Palacongressi di Alghero. Era ed è legge della Regione Sardegna da sei mesi abbondanti. E allora cosa è caduto di nuovo, tanto da giustificare conferenza stampa in Pompamania con l'assessore al turismo regionale Kessel, presidente dell'Assemblea PAIS. Semplice, una nota in data 9 giugno scorso per entoria nei tempi e nei modi dell'assessorato degli enti locali della stessa Regione che intima il Comune ad adottare entro breve termine impegno di spesa, crono programma, tempistica di esecuzione dei lavori in relazioni sugli interventi previsti 1 milione per il 2020, 1 milione per il 2021 e 1 milione per il 2022. A scriverlo in una nota, sono Mario Bruno, Gabriele Esposito e Pietro Sartori di Peralghero, Le mondo cacciotto nella Piras di Futuro Comune, Mimo Prisi del PD e Valdo di Nolfo di Sinistra in Comune. Peccato che il sindaco di Alghero non sappia ancora come spenderli, si dice aperto a tutte le proposte, ma in realtà la richiesta fatta dall'amministrazione e la risposta data dal proprietario del Bene, cioè la Regione, Assessorato del Demanio e degli enti locali dicono chiaramente che quelle risorse servono per la manutenzione ordinaria e straordinaria del Palazzo dei Congressi di Alghero. Ma allora che c'entra a Casa Sardegna? Si chiedono dal centro-sinistra. Cos'è questo braccio operativo dell'Assessorato regionale al turismo? Si buttano al vento ancora una volta una marea di soldi pubblici, ma per fare cose esattamente? Dov'è il progetto? Dove sono le analisi sul ritorno socio-economico doverose, soprattutto in un momento di crisi profonda come quello che viviamo? Un ennesimo effetto annuncio su un ente, un carrozzone immaginario che non c'è e che non ci sarà attaccano dall'opposizione. Sapete quante case vere verrebbero fuori spendendo 3 milioni di euro con un bando rivolto al mercato per le famiglie in graduatoria perché davvero senza casa? Almeno 20. Tanto è vero che il Comune si trova già in cassa 3,6 milioni ereditati dalla scorsa consigliatura per acquistare 25 alloggi e altri 7 già pronti da consegnare nel quartiere del Carmine oggetto di altro bando da 1,6 milioni. Ha trovato tutto pronto altro che casa Sardegna siamo alle solite notizie inventate per annunci che a un anno dalle elezioni cominciano a stancare concludono gli esponenti di centro-sinistra. Ci fermiamo ora per una pausa pubblicitaria. Tra poco. In apertura di seconda parte del nostro telegiornale facciamo il punto sull'emergenza Covid-19. Sono complessivamente 1.365 casi di positività accertati in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'unità di crisi regionale si registrano infatti due nuovi casi riscontrata la positività di un cittadino straniero extracomunitario nel sud Sardegna e un caso a Sassari. In totale nell'isola sono stati eseguiti 70.202 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono 13 nessuno in terapia intensiva mentre 20 sono le persone attualmente in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi comprende come sempre anche i pazienti guariti. Siamo arrivati a 1.181 più 2 ieri rispetto al precedente aggiornamento oltre a 19 guariti clinicamente. Resta invece invariato il numero delle vittime 132 dall'inizio dell'emergenza. In relazione all'avviso pubblico emesso dal Comune di Alghero il 6 giugno scorso riguardante la presentazione di progetti per i centri estivi diurni e servizi educativi della città di Alghero in conformità alle disposizioni previste nelle linee guida del 15 maggio il settore servizi sociali aggiorna la procedura in adempimento alla nuova disposizione del Dipartimento della Famiglia della Presidenza del Consiglio di Ministri dell'11 giugno. Le nuove disposizioni hanno introdotto significative novità per quanto attiene l'organizzazione e la promozione dei centri estivi per minori. in particolare è possibile dare avvio ai centri estivi per minori attraverso la presentazione di un progetto al Comune e all'ATS secondo le modalità previste dal capitolo 2.9 delle linee guida non risulta quindi più necessario attendere la relativa autorizzazione da parte della Commissione Congiunta prevista dal precedente DPCM restano comunque vigenti le prescrizioni igienico-sanitarie e di distanziamento. L'amministrazione spiega l'assessore dei servizi sociali Maria Grazia Salari si intende mantenere in vigore la Commissione che si occuperà della verifica periodica dei progetti della loro attuazione corretta per tutte le informazioni comunque in tal caso si può consultare ovviamente come sempre il sito del Comune di Alghero. È fondamentale che si concluda celermente l'iter di rinnovo del contratto di locazione tra l'Università degli Studi di Sassari proprietaria della struttura e Porto Conte Ricerche a sostenerlo in una nota il consigliere comunale e segretario cittadino dei riformatori sardi Alberto Bamonti la nostra isola da decenni è indissolubilmente legata a progetti di innovazione scientifica dal respiro internazionale promossi dagli Atenei Sardi e dagli enti regionali di ricerca e in questo momento storico è fondamentale che le istituzioni sostengano un accresciuto fabbisogno di investimenti nella ricerca e nello sviluppo cogliendo le straordinarie opportunità di cambiamento che l'emergenza coronavirus ci sta dando scrive l'esponente di centrodestra il nostro territorio ha il privilegio di ospitare in località Tramariglio Porto Conte Ricerche uno dei motori del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna che rappresenta una vera eccellenza nel campo delle biotecnologie applicate per l'alimentazione e per la salute biomarker discovery e sistemi diagnostici per citarne alcuni una delle peculiarità del centro ricerche ricorda Abamonti è quella di essere localizzata all'interno del Parco Naturale regionale di Porto Conte un'area naturale protetta della riviera del Corallo questa combinazione di fattori unita alla presenza di risorse umane di decennale esperienza nel campo della ricerca contribuisce a creare un microsistema unico dal quale ripartire per il rilancio dell'economia del territorio con iniziative mirate che abbiano ricadute concrete sulle imprese e sulle famiglie per le istituzioni pubbliche conclude il rappresentante dei riformatori è il momento di sostenere incentivare e valorizzare questo asset strategico con una vision che guardi all'immediato futuro affinché non si disperda un patrimonio di risorse umane scientifiche che deve essere capitalizzato nel territorio proseguiamo con le interviste che vedono protagonisti prodotti ed eccellenze del territorio oggi parliamo di vino in modo particolare siamo curiosi di conoscere ovviamente lo stato attuale post-covid di alcune attività e quindi anche delle produzioni ospite ai nostri microfoni quest'oggi Paolo Parpinello con Paolo Parpinello parliamo di una cosa che piace a tantissimi ovvero il vino dopo il periodo di lockdown possiamo dire che noi siamo andati in lockdown però la vite l'uva non va nel lockdown la natura non si ferma no no per fortuna no e questo o per natura più che per fortuna no anzi noi per dire la vita abbiamo continuato a lavorare perché tutti gli operai o certe operazioni manuali come la potatura dovevano per forza essere fatte dalle persone quindi abbiamo continuato a lavorare il periodo di lockdown allora che cosa diciamo cambiato nell'azienda per voi beh di sicuro è stato inizialmente devo dire è stato un attimo così di shock posso dire un po' credo anche per tutti abbiamo avuto forse il fatto anche che sia un'azienda piccola quindi è molto flessibile abbiamo avuto la possibilità di trovare delle alternative soprattutto in natura commerciale che ci dessero la possibilità di passare questo periodo che devo dire in realtà è stato abbastanza duro ecco adesso comunque inizia l'estate è un periodo di grande lavoro per quanto riguarda i vittini insomma i vigneti dovete alla fine fare delle operazioni che poi porteranno alla vendemmia e quindi si va a pieno ritmo che cosa prevede adesso? devo dire che è un discorso quello della vendemmia abbastanza anche se mancano tre mesi sembra tanto tempo ma è un tempo brevissimo perché serve sicuramente per avere un'idea di come lavorare e pianificare lavoro soprattutto per il 2021 tenete presente che noi usciamo da una vendemmia del 2019 che è stata da un punto di vista quantitativo disastrosa qualitativo o no quest'anno sembrerebbe che le cose non siano assolutamente così non sarà una vendemmia sicuramente abbondante però non sarà neanche drammatica come quella dell'anno scorso chiudo con una domanda dal punto di vista commerciale come siete corsi ai ripari magari rispetto ovviamente alle vendite vendite su internet poi dopo abbiamo trovato comunque anche altri clienti alternativi abbiamo dovuto un po' togliere diciamo il coniglio al cilindro ecco giusto per usare fare un esempio perché ripeto è stato difficile fra l'altro io pensavo che le aziende con maggior difficoltà fossero state quelle con una piccola un piccolo quantitativo di produzione invece mi dicono adesso i colleghi soprattutto nel nord Italia che le aziende molto grandi hanno avuto grosse difficoltà anche quelle quindi ha colpito un po' tutti chi più chi meno allora poi faremo il punto della situazione in tempi di vendemmia per oggi è tutto io vi lascio come sempre al meteo grazie per essere stati con noi e arrivederci